Siamo con il Presidente Virelale Bocce, un'attività sportiva che è uno sport di integrazione e di rivertimento. È tutto le Bocce, è uno sport di integrazione, di divertimento, di socializzazione, è uno sport altamente agonistico, a tutte le componenti, tant'è che abbiamo donne, giovani, disabili, signores, maschili e femminili che lo praticano a tutta l'età e veramente in qualunque condizione. Siamo in una serata per festeggiare un bel titolo. Il massimo titolo mondiale, l'unico titolo che mancava Gianluca Formicone per essere campionissimo della specialità Raffa, alla stregua di giocatori come Dante e Alessandro. Quali sono gli obiettivi che si pone, visto che abbiamo raggiunto il massimo, andare oltre? Per lui? Per lui credo che è il coronamento di una carriera straordinaria. Per noi è organizzare un campionato del mondo sempre in modo più consono a quelle che sono le potenzialità delle Bocce, cioè più nazioni e soprattutto più crescita qualitativa per le altre nazioni, visto che nella Raffa soprattutto l'Italia è la leader. Quindi è importante far crescere le altre nazioni e dimostrare che noi siamo uno sport, ripeto, a tutto tondo, Raffa, Volo, Pedanchi e Bocce Paralimpiche. Grazie a tutti.